È il giorno della requisitoria al processo Open Arms dove ha imputato Matteo Salvini per sequestro di persone e rifiuto di atti d'ufficio, requisitorio in corso nell'aula bunker del Pagliarelli a Palermo. Il pubblico ministero Geri Ferrara stamattina ha affermato la persona in mare da salvare ed è irrilevante la sua classificazione, migrante, componente di un equipaggio, passeggero. Per il diritto internazionale della Convenzione SAR anche un trafficante di esseri umani o un terrorista va salvato, poi se è il caso la giustizia fa il suo corso, i diritti dell'uomo vengono prima. Salvini, oggi non presente in aula, sui social ha scritto, riferei tutto, la difesa dei confini dei clandestini non è reato, avanti tutta, senza paura. Mentre il suo avvocato Giulia Bongiorno, in una pausa del processo ha detto, con questa introduzione ed intuitiva evidenza il pubblico ministero sta procedendo con una requisitoria contro il decreto sicurezza bis, che è un atto del governo, è contro la linea politica prima ridistribuire e poi sbarcare. Ha proprio espresso un giudizio di grande contestazione di questa linea portata avanti dall'intero governo.